Il clima e il carattere dei popoli Charles-Louis de Montesquieu, lo spirito delle leggi Se è vero che il carattere spirituale e le passioni sono estremamente diverse nei diversi climi, le leggi avranno da essere relative alla differenza di tali passioni e di tali caratteri. Nei climi freddi si ha dunque maggior vigore. Questa maggior forza non può non produrre svariati effetti, per esempio maggior confidenza in se stessi, cioè maggior coraggio, consapevolezza della propria superiorità, cioè minor desiderio di vendetta, maggior senso di sicurezza, cioè più franchezza, meno sospetti e meno intrighi politici. Essa produrrà inoltre caratteri diversi e tipici. Si immagini un uomo racchiuso in un luogo caldo. Egli soffrirà perciò stesso di grande prostrazione. Se in tale circostanza gli si propone un'azione coraggiosa, ne sarà tutt'altro che entusiasta. Per la sua attuale debolezza, la sua anima sarà invasa dallo scoraggiamento. Egli avrà paura di tutto, avrà la sensazione di non potere nulla. I popoli dei paesi caldi sono vili come lo sono i vecchi, quelli dei paesi freddi coraggiosi come i giovani. Nei paesi freddi si avrà scarsa sensibilità per i piaceri. Essa sarà maggiore nei paesi temperati, estrema nei paesi caldi. Così come si distinguono i climi mediante i gradi di latitudine, li si potrebbe anche distinguere, per così dire, mediante i gradi della sensibilità. Nei climi nordici troverete popoli che hanno pochi vizi e molte virtù, grande franchezza e sincerità. Avvicinatevi al mezzogiorno e avrete l'impressione di allontanarvi dalla morale stessa. Passioni più vive moltiplicheranno i delitti. Ciascuno cercherà di prevalere sugli altri per dare più libero sfogo a queste stesse passioni. Nei paesi temperati troverete invece popoli incostanti nel loro comportamento, sia nei loro vizi che nelle loro virtù. Il clima non ha sufficientemente caratterizzato per poter determinare con maggior precisione i loro caratteri. Il calore in certi climi può essere così eccessivo da privare totalmente il corpo della sua forza. La fiacchezza si comunicherà allora allo spirito stesso. Non si avrà più alcuna curiosità, alcun desiderio di nobili imprese, alcun sentimento generoso. Le inclinazioni saranno tutte passive. La felicità sarà identificata con la pigrizia. La figlia di nobili imprese,